Ciao a tutti Gioinio, sono Mario Gioi10 e bentornati e benvenuti in questa nuovissima post partita di Trapani e Troina. Oggi abbiamo pareggiato col Troina e a me oramai annoia a far video, annoia a far post partita perché ragazzi non c'ha più senso. Oramai ha dalla vittoria con il Sant'Avonici Lento che noi non vinciamo una partita. Abbiamo perso San Catallo, pareggiato contro il Giarre, perso contro la Cittanovese e pareggiato contro il Troina. Abbiamo perso contro la penultima in classifica, pareggiato con la diciassettesima, perso contro una squadra di metà classifica e pareggiato contro l'ultima in classifica. Ragazzi a me proprio, veramente, ok che la sfortuna abbiamo preso palo, vabbè loro hanno fatto solo un'occasione in tutta la partita, però ragazzi dico io, non si può continuare così, non si può continuare così. Quindi se fossi stato il Trapani io a questo l'avrei richiamato tutti i calciatori del Dattilo, li avrei messi in campo e sicuramente avrebbero fatto meglio di tutta la squadra del Trapani, sarebbero arrivati almeno quarti. Perché ragazzi così è diventato qualcosa di ridicolo per la società, per i tifosi e per tutto. Vedere il Trapani tredicesimo a undici punti, ormai bloccato da più di quattro partite, è veramente qualcosa di assurdo. Veramente qualcosa di assurdo. Oggi poi abbiamo giocato in un campo non saprei come definire. Io ho raccolto un po' di informazioni e ora vi farò un po' tutto quello successo nella partita. Nel primo tempo il Trapani ha staccato molto e ha cercato il gol, ovviamente non trovandolo, perché noi in trasferta abbiamo vinto solamente una volta, abbiamo fatto il gol solamente una volta. Poi non facciamo un gol da quattro partite, né in casa né in fuori casa. Non l'abbiamo fatto contro la San Catandese, non l'abbiamo fatto contro il Giarre, non l'abbiamo fatto contro la Città Nuovese, non l'abbiamo fatto anche oggi. Appunto nel primo tempo il Trapani ha attaccato molto cercando di trovare il gol. Nel secondo tempo, anzi al 45esimo, ancora al primo tempo, c'è stato un gol annullato per fuorigioco a De Felice. Poi è finito il primo tempo sul risultato di 0-0. Nel primo tempo, ragazzi, al 55esimo è uscito Lupo. Al 55esimo del secondo tempo è uscito Lupo ed è entrato Sami, mentre al 58esimo, scusate, è uscito Vitale ed è entrato Telesco. Poi il Trapani ha avuto, se non sbaglio, 5 calci d'angolo in tutta la partita. Nel 68esimo è uscito Musso ed è entrato Gatto. E inoltre è uscito pure Bonfiglio, che stranamente è partito titolare ed è uscito Bonfiglio, scusate, ed è entrato Spano. C'è stata poi al 74esimo un'occasione pericolosa per il Trapani con un tiro da limite nell'aria, non mi ricordo bene, comunque di Gatto. All'ottantesimo, se non sbaglio, è entrato Galfano, mentre poi l'unica occasione in tutta la partita del Truina è stata una traversa colpita all'86esimo. Al 90esimo sono stati annunciati 4 minuti di recupero e al 91esimo, 92esimo, il Trapani ha preso il palo con un tiro di Spano. Non proprio palo, in gioco è andata vicino al palo. Io ci ho messo palma e andata vicino al palo e poi è finita così la partita. A questo punto, ragazzi, il Trapani lo ha voluto, ha esonerato a Moschella, scelta giusta, e ha giocato con mister Leocriaco. Pareggiato questa partita, credo che tutti i tifosi e la società abbiano capito che il mister non fa la differenza. Sono i giocatori che sono scacci, ammarettati, che fanno veramente schifo. Perché va bene il mister, Moschella abbiamo capito che c'è un messaggio generato. Ora all'Eucriaco succede la stessa cosa, allora non è proprio il mister. Forse è la squadra che l'abbiamo costruita da schifo, comprando giocatori che vendevano fino a due anni fa ai mercatini dell'usato. Cioè, dai, abbiamo capito che non è il mister che fa la differenza, ma sono i giocatori. Perché se con Moschella giocavamo di schifo, con Leocriaco stiamo giocando meglio, ma comunque i risultati non arrivano e i giocatori sono sempre più scarsi. Gli unici giocatori che si salvano sono Musso, Gatto, Bonfiglio, Tedesco, tutti gli attaccanti in poche parole. E questo qua, nuovo Olivera, ancora non si sa, è pure Pagliarulo. E dovremmo vedere, Olivera, insomma, come sarà, come giocherà e insomma come sarà in campo, come renderà in campo e se effettivamente sia un buon giocatore oppure non sia per niente un buon giocatore. Questo è da vedere. Io so solamente che questo è il quarto risultato inutile consecutivo che facciamo. In trasferta sappiamo che facciamo sempre male, sappiamo che in trasferta noi non giochiamo, non giochiamo proprio, non so perché, ma in trasferta noi proprio non ci piace giocare. Perché ho notato che in trasferta la maggior parte delle volte, insomma, noi non giochiamo, non facciamo nulla e non facciamo mai golle. In casa magari siamo appingitati e giochiamo meglio, ma contro il Giarre assolutamente no, non abbiamo giocato meglio. E quindi ragazzi, io cosa vi devo dire? È l'endecimo post partita nella quale io sono amareggiato, triste e veramente rido per non piangere perché questa squadra ha veramente dimostrato di essere una squadra che merita la retrocessione in eccellenza. Guardando un po' di dati, se andiamo ad analizzare i punti fatti fuori casa, il Trapa gli ha fatto meno punti della terza ultima in classifica, giusto per darvi un'idea, no della quarta ultima, giusto per darvi un'idea di come rendiamo fuori casa. Insomma, se la classifica fosse solo in casa, noi faremmo comunque schifo e saremmo comunque tredicesimi se la classifica fosse solo di punti ottenuti in casa. Se la classifica fosse solo di punti ottenuti fuori casa, noi saremmo lo stesso tredicesimi, ma con la quarta ultima e allo stesso punteggio di noi. Quindi ragazzi, giusto per farvi capire, non solo fuori casa, ma pure in casa che questa squadra, insomma, è stata costruita per salvarsi. Ah, lì, anzi, mi scuso, porca misera, mi scuso, questa squadra è stata costruita per far il campionato e per qualificarsi in Serie C. La squadra sta rendendo come una squadra di eccellenza che deve salvarsi, mentre i tifosi vogliono che sia una squadra d'alta classifica. Ma se ragazzi non abbiamo i giocatori, cosa ci possiamo fare? Noi cosa ci possiamo fare? Ragazzi, io spero che questo post partita vi sia piaciuto, io ve li faccio sempre di 8, 9, massimo 10, 11 minuti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao belli, forza, travali sempre e comunque, ciao.